Sviluppare l'educazione media e le competenze tecnologiche è il tema trattato ieri nel corso di un seminario che si è svolto nei locali dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Gela. Davanti ad uno pubblico attento ha relazionato il sociologo Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università degli Studi di Messina, che ha coordinato sul tema numerose ricerche e firmato diverse pubblicazioni. Da una parte ci sono ragazzi sempre più connessi e che fanno in rete qualunque cosa, stiamo parlando dei preadolescenti, ma soprattutto ci sono genitori totalmente inconsapevoli di quello che i loro figli fanno in rete. E cosa bisogna fare in questo caso? Il genitore cosa deve fare? Deve avere consapevolezza. I due maggiori pericoli sono sicuramente la pedopornografia e quindi il sexting, abbinato al sexting e al cyberbullismo. Sono due forme di violenza molto pericolosa che i genitori in qualche modo devono intercettare in collaborazione anche con la scuola. Soprattutto. Sì, sì, la scuola è fondamentale anche perché è un terminale, abbiamo visto anche dalle indagini e dai dati, a cui i ragazzi si affidano anche dopo aver parlato ai genitori. L'argomento affrontato ieri è stato scelto anche per fornire ai docenti nuovi strumenti per una didattica sempre più vicina agli alunni nativi digitali, ma anche per fornire ai genitori un supporto che alimenti in maniera proficua il rapporto scuola-famiglia. L'anno scorso con il professore Pira abbiamo parlato di come utilizzare nel miglior modo possibile i media all'interno della nuova didattica, soprattutto riferendosi ai cosiddetti nativi digitali. L'anno scorso però il percorso era mirato esclusivamente solo per i docenti. Quest'anno abbiamo deciso di allargare anche alla presenza dei genitori, però intervenendo sotto un altro aspetto, cioè quanta responsabilità hanno i genitori. I genitori sono consapevoli di come i loro figli usano gli strumenti. I figli spesso ne sanno molto di più di noi che non siamo assolutamente nativi digitali, però spesso sfuggono al controllo dei genitori. Allora interrogarsi sempre più vale la pena, soprattutto perché davvero quello che leggiamo dall'ecrona che spesso ci sorprende, ci sembra inaudito, e magari può accadere dietro l'angolo.